Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. Belen Rodriguez fa il suo ritorno in televisione, scegliendo Domenica in come palcoscenico per raccontare la sua storia. La modella argentina, oggetto di voci riguardo a un periodo difficile, è stata ospite di Mara Venier nella puntata del 3 dicembre su Rai 1. Durante l'intervista, Belen si è definita una donna molto caparbia, spiegando di essersi sempre presa cura di se stessa e di aver avuto un'infanzia meravigliosa in Argentina, ricca di amore. La decisione di lasciare la sua famiglia per intraprendere una nuova vita in Italia con soli 180 euro in tasca è stata un passo coraggioso, come sottolineato dalla stessa Rodriguez. Ha raccontato di essere arrivata a Bologna, poi a Riccione, dove ha iniziato come ragazza immagine in discoteca e partecipato a casting per diventare modella. Nonostante le sfide, Belen si definisce ancora oggi una sognatrice, resistendo a chi cerca di spegnere i suoi sogni. La showgirl ha affrontato momenti difficili, tra cui la recente separazione dall'ex marito Stefano De Martino. Ha rivelato di aver rifiutato di condurre programmi televisivi come Tussi che vale se le iene durante quel periodo difficile, poiché avrebbe creato problemi alla produzione. Belen ha descritto quel periodo come l'anno più difficile della sua vita, in cui si è sentita completamente smarrita. Parlando del matrimonio e della separazione, Belen ha sottolineato il concetto di insalute e malattia, definendo la depressione una brutta malattia. Ha espresso la sua delusione nel sentirsi sola e tradita, senza specificare l'ex marito. Riguardo alla fine della loro storia, ha affermato che non è stata causata da un tradimento, ma che è iniziata con uno. Confermando di aver avuto il sesto senso riguardo a situazioni simili. La Rodriguez ha chiacchierato con diverse persone coinvolte, affermando che molte hanno ammesso immediatamente la verità.